Si sono concretizzati i timori dei lavoratori ipercop della Campania, che nel mese di dicembre, preoccupati per le sorti della cooperativa, misero in atto una serie di proteste causando la chiusura degli ipermercati. La Cop lascerà la Regione. L'ufficializzazione è arrivata lo scorso venerdì, quando i responsabili di Unicop Tirreno, la Cop Toscana sotto le cui insegne si trovano i tre ipermercati di Afragola, Quarto e Avellino e i due supermercati di Napoli a Renacce e di Santa Maria Capo a Vetere, hanno incontrato sindacati e rappresentanti sindacali e aziendali nella sede centrale di Ipercop Campania, per comunicare loro il nome dell'acquirente. Si tratta di Castrese Catone, della Catone Group, azienda di Pastorano comune del Carsertano, specializzata nel trasporto alimentare. Nemmeno il nome dell'acquirente è una novità, circolava infatti da tempo tra i dipendenti, che durante le manifestazioni degli scorsi mesi avevano manifestato non poche perplessità sul nome di Catone, a causa del suo trascorso giudiziario. Non si tratta però di una vera e propria fuga, non spariranno le insegne Cop. L'Unicop Tirreno ha infatti ceduto alla Catone Group il 49% dell'azienda. Nella fattispecie saranno ceduti organici, mezzi e merci degli impianti regionali, riservando per sé il 51% delle quote societarie campane, compreso il marchio. Ad indurre Unicop Tirreno alla vendita un bilancio in rosso, le cui perdite ammonterebbero a 70 milioni di euro dal 2008 ad oggi per la sola regione campania. Non dovrebbero dunque esserci grossi sconvolgimenti, se non per i 662 dipendenti regionali oltre ai 300 dell'indotto, per i quali si preannunciano condizioni contrattuali svantaggiose rispetto alle garanzie che offriva il rapporto con la cooperativa. È previsto per questa settimana un incontro con i sindacati, durante il quale si proverà a sottoporre al gruppo Catone una controproposta prima della presentazione del piano industriale vero e proprio. Intanto si vocifera di problemi relativi ad una constatazione di esuberi da parte di Unicop. Esuberi per i quali si potrebbe fare ricorso ad ammortizzatori sociali. Ed i lavoratori Cop fanno sapere che piuttosto che passare al gruppo Catone preferiscono la chiusura ed annunciano per giovedì 31 un sit-in sotto il comune di Napoli per chiedere al sindaco dei magistris di prendere una posizione in merito.